Gli ha vinto Borriello anche su Alessandro Madri Mentre torna dopo la squalifica Arturo Vidal Titolare al fianco di Bonucci Martin Caceres A destra Celi Steiner torna anche lui dopo la squalifica L'immediata a San Siro è scontata contro il Chievo Simone Pepe Il tassetto dell'attacco dopo la tribuna di sabato E la titolarità in Milan Juventus torna Marco Borriello Ancora a caccia del suo primo gol in bianconero Qui Conte parla con Pepe, lo catechizza nei movimenti del 4-3-3 Ancora un cambio di modulo per la Juventus Mentre Marchisio prova a tornare a Bologna Quello di inizio stagione, 6 gol per lui